Rabino promuove l'operazione 4 ruote per 4 zampe. La concessionaria Renault di Pinerolo e Avigliana contribuisce alla produzione televisiva di video adozioni 4 zampe in tv. La trasmissione che da 10 anni presenta i cani in adozione dai canili di tutta Italia. Rabino, concessionario Renault, è un'azienda che ama i nostri amici a 4 zampe senza famiglia, che hanno diritto ad un futuro migliore. Grazie di cuore, Rabino. Bentornati a tutti voi sul palcoscenico del rifugio di Cavour. Dunque, Amanda, bentornata. Bentornati, è sempre un piacere avervi qua. Grazie, Arden, ciao, bentornato per la seconda volta. Ciao, buongiorno a tutti. Un benvenuto alla nostra copertina, direi a questo punto. Axel, perché già presentato, ritorna, perché il tuo lavoro per fare in modo che lui risulti adottabile non è ancora terminato. No, in realtà questo cane ha bisogno di un percorso costante, perché è un cagnone grosso, potente, pieno di energia, un po' dominante. Ogni tanto fa qualche scherzetto ai papabili adottanti, però col tempo è migliorato molto. La chiave è quella di tenerlo sempre a un livello di energia basso ed equilibrato per fare in modo che comunque non abbia reazioni sbagliate. Dicevamo lui, un lungo degente qui al rifugio, dunque, più di due anni, deve trovare la chiave anche lui per essere adottato. Sì, lui deve trovare la chiave, ma soprattutto i futuri adottanti devono trovare la chiave. Ci vogliono padroni consapevoli, responsabili, che abbiano voglia di mettersi in gioco e che dedichino impegno, soldi anche, se necessario, per l'educazione e grande costanza per evitare che il cane poi possa ritornare in rifugio o, peggio, venga magari abbandonato o quant'altro. Ecco come capita a volte. Il tuo ruolo è quello di collaboratori, in questo caso esterno e poi magari mi dicevi in futuro interno, rifugio per seguire i cani, tra virgolette, più difficili. Sì, io mi occupo fondamentalmente dei cani che hanno avuto qualche problema nelle relazioni uomo-cane o cane-cane e quindi cerco di fare in modo che questi cani possano essere adottabili. Sicuramente mille domande da farti. Io invito i nostri telespettatori a chiamarti, non dico di subistarti di domande inutili, però relative ai cani che presenteremo e che troveranno spazio nella nostra trasmissione. Ok, sono a disposizione quando volete. Io sono qua a Cavour. E seguiremo l'avventura di Axel a questo punto, ovviamente. Speriamo che arrivi un padrone consapevole e serio che venga a portarlo via. Bene. Amanda, il rifugio accoglie, il rifugio cura, il rifugio fa anche in modo che gli ospiti non rimangano a vita chiusi in un box ma trovino l'adozione. Sebbene cerchiamo di farli stare nel miglior modo possibile quando sono qua da noi, lo scopo finale è trovargli una casa, una famiglia. Nel caso di Axel è già due anni che è qua da noi e è un cane giovane, quindi merita assolutamente una possibilità a casa. Un'occhiata alla scorsa trasmissione perché il cuoricino, le porte si sono aperte. Sì, della scorsa trasmissione i cani che hanno già trovato a casa sono Rapi, quel mare in mano che si era stufato della vita da passore ed era venuto da noi in cerca di famiglia è andato a stare benissimo perché dorme in casa addirittura sul tappeto, sul letto e ha avuto quello che cercava e gli adottanti sono felicissimi. E anche Kiwi è stato adottato che era il cagnolino piccolino bianco e nero aveva anche una leggera zoppia ma nonostante questo ha trovato una brava famiglia ed è andato a stare bene anche lui. Due opzioni? Sì, anche non ci sbilanciamo ancora per Scaramanzia ma anche le due pastorine, Nuvola Evelyn e l'altra cagnetta, Ambra, che abbiamo fatto vedere, hanno delle famiglie interessate che verranno breve a vederle e potrebbero andare a casa. Vi aggiorneremo la prossima puntata. Bene, grazie a tutti coloro che hanno percorso questa strada sterrata e che da Cavour porta a rifugio. Noi adesso sul Green Carpet partiamo con la rassegna, ok? Bene, grazie. Diamo inizio alla rassegna con Arden che in questo caso ci presenta Ambrogio, adottabilissimo credo da subito. Sì, sì, Ambrogio è qua da noi da poco, appunto il giorno di Sant'Ambrogio è stato trovato e è battezzato così per l'occasione, è giovane, circa sei mesi, è un cane buono che non ha l'apparenza a problemi, insomma, quindi non ha bisogno di grandi percorsi da affrontare e va d'accordo con cani femmine, va bene al guinzaglio, per cui veramente non resta che venire a trovarlo e innamorarsi di lui. Troppi pitbull nei canili, assolutamente. Tyson, uno di questi da Napoli. Sì, lui è arrivato da pochissimo da noi, circa una settimana, è un simile pitbull, è piccolino ma dolce, già sterilizzato, ha circa due anni, anche lui in cerca di padrone, quindi vi aspettiamo anche per Tyson. Utilizzati per scopi particolari, difesa e poi abbandonati, poi maltrattati, vediamo solo Molossi, Pitbull con brutti destini purtroppo, che voi cercate di modificare ovviamente. Ma diciamo che purtroppo è un po' il destino di questi cani qua, nel senso che le persone spesso e volentieri li prendono con queste finalità e poi in realtà non riescono neanche a gestirli per la propria incolumità e la propria difesa nella maniera giusta. E quindi alla fine finiscono male. Augurità, Tyson. Speriamo che trovi un padrone in fretta. A volte la paura ti frega, detto proprio il caro Paolo, lui è rimasto per un anno qui in rifugio perché è timoroso. Esatto, lui il 30 gennaio è un anno che è qua da noi, è arrivato con altri tre cagnolini dalla Sicilia, compreso uno dei suoi fratelli, che erano dieci fratelli maschi, e da noi ne sono arrivati due, gli altri tre sono andati a casa immediatamente perché erano di carattere un po' più coraggioso e lui purtroppo è rimasto qua. E con noi adesso si è sciolto, quando siamo solo noi ci viene incontro, ci fa le feste e tutto, ma se viene uno è strano ovviamente si appiattisce, non è proprio il cane che adotteresti subito perché va conquistato e quindi questa volta è un deterrente, il cane resta qua. Pazienza, tempo, amore, con me sembra tranquillo, quindi comunque ci siamo conosciuti 40 secondi fa, però intanto quando si ritraggono l'adottante dice lui non capisce che... ...a conquistarlo quando posso averne un altro subito affettuoso, invece no. Lui sarà affettuoso. Assolutamente, con noi è affettuoso e con questi occhi merita, guardatelo, con queste cicatrici in faccia che vengono da combattimenti tra fratellini giù in Sicilia, è meraviglioso. Diciamo, la sua vita è iniziata in salita, procuriamo di una bella pianura. Assolutamente merita e saremo contentissimi di trovare questa casa perché tutti noi li vogliamo molto bene e ci siamo affezionati. Ed ora su queste immagini parliamo di sterilizzazione perché loro sono cinque cuccioli maschi, la mamma randagia non si è fatta prendere, devono essere curati, alimentati, adottati. Perché sterilizzare a questo punto? Abbiamo avuto la fortuna che una signora di buon cuore se ne è presa cura, altrimenti probabilmente all'aperto loro abitano un po' in collina col freddo, magari non sarebbero neanche sopravvissuti, li abbiamo presi, portati qua da noi, gli dedicheremo tutte le attenzioni, vaccini, cure che necessitano. Cercano ancora tutti e cinque casa, anche se non avranno problema a trovarla, però la mamma ancora randagia e rischiamo che se non arriviamo in tempo a sterilizzarla siamo di nuovo a capo tra poco e quindi è assolutamente importante e fondamentale la sterilizzazione. E senza il rifugio sarebbero randaggi e magari anche pericolosi per loro, per la circolazione stradale e per tutti? Sì, adesso nel loro caso sono bravi ma potrebbero mordere qualcuno, provocare un incidente, magari c'è qualcuno malintenzionato che gli fa del male, quindi se non fossero qua sarebbero in pericolo. Sono lì, si stanno prendendo il sole, vi attendono assolutamente. Esattamente, sono adorabili, quindi hanno due o tre mesi, venite a conoscerli e sono carinissimi. Chiodo è in rifugio purtroppo da molto tempo, nero, maschio, non va d'accordo con gli altri cani. Poi adesso guardiamo i punti di forza. Esatto, ci sono diverse cose che non volgono a suo favore ma è bravo con le persone, è molto affettuoso e Chiodo devi farti almeno vedere altrimenti c'è un'altra cosa che è poi a suo favore. Però merita di trovare una casa perché appunto va al guinzaglio volentieri, con le persone buone, semplicemente ci va una famiglia che possa dedicarsi solo a lui, che non abbia altri animali perché con i maschi assolutamente non va d'accordo, con le femmine anche non è particolarmente socievole. Poi per carità le cose possono sempre cambiare fuori di qua, però appunto una famiglia se la merita dopo tutto questo tempo passato da noi. Certo, me la sentirei di suggerire un affiancamento magari qualche weekend, però poi perché no? Interfacciarsi a un educatore che lo segua e dia soprattutto dei buoni consigli più che per lui ma per la famiglia, di come gestirlo, come comportarsi con lui. Come vedete non ha problemi, non è aggressivo con le persone, però essendo un cane comunque adulto o maschio di una certa taglia è giusto interfacciarsi al meglio. La scelta consapevole di un'adozione è perché diamo una mano al rifugio ma diamo una mano soprattutto a loro che hanno bisogno di noi, hanno bisogno di voi, c'è qualche problema ok si supererà. Esatto, per non farlo invecchiare qua come tanti altri che purtroppo entrano e non escono più. Ha due occhioni bellissimi. Sì, no no, ma lui è veramente affettuoso e non ha niente che non va, solo appunto più passa il tempo e più è difficile che venga adottato e non vogliamo che sia così. Pensate di Jolly, questo bellissimo bretoncino è stato sequestrato perché è tenuto a catena, catena non conforme, chissà come sono le catene conformi e che dire? Eh, che dire, anche i cani con pedigree puro possono finire in canile perché purtroppo era un cane utilizzato da caccia tenuto in condizioni pessime, igieniche, disastrose e quindi l'hanno sequestrato e ora ha affidato a noi per cercargli una casa, un'esistenza migliore. Adottabile all'istante direi. Lui è buono, semplicemente vista la sua razza ovviamente è un cane che anche se ha 7-8 anni ha bisogno di fare attività perché è molto molto attivo, vivace, corre, è proprio nel suo carattere, nella sua indole, però non ha problemi nel senso che è un cane buono, è affettuoso, va al guinzaglio, semplicemente bisogna fargli fare un po' di attività, ecco, per evitare che distrugga casa. Massima, l'attenzione per i cani anziani all'interno del rifugio, in questo locale riscaldato, lui è orso, lei è maia? Sì, lui, cioè tutti i nostri cagnolini anziani meritano di trovare casa, lui in particolare lo scorso anno era con due cagnolini Max e Mix nel box che purtroppo con il passare dei mesi insomma non hanno trovato casa e adesso sono mancati. E vogliamo che non succeda lo stesso anche lui, che non muoia qua da noi, perché sebbene abbia coperte, stufa, tutto l'affetto è il miglior cibo che possiamo garantirgli, vogliamo che possa provare l'affetto di una famiglia e la cosa è di stare a casa, in una vera casa. L'adozione del cane anziano è il massimo di ciò che uno può fare per loro, cioè gli ultimi anni ci si augura nella loro vita con una carezza come stai facendo tu tutte le sere. Esatto, sì, quello che ci auguriamo per loro perché poi ad esempio lui sta bene, ha i suoi anni però non ha problemi, va anche a guinzaglio, però vogliamo che almeno per lui ci sia una possibilità come non c'è stato invece per i suoi amici di box. Diventeremo tutti anziani e avremo tutti bisogno di carezze, giusto? Esatto, quindi è un atto d'amore adottare un cane anziano, non ci stancheremo mai di dirlo, date questa possibilità perché chi lo fa veramente ne è felicissimo e ci ringrazia. E concludiamo con la dolcezza fatta a cane o viceversa, lui si chiama Daniele Strepitoso, dolcissimo, dalla Sicilia. Esatto, lui si contorce un po' e dalla Sicilia arriva a tre anni e mezzo, è molto vivace e come potete vedere ama giocare con le palline, correre, andare a passeggio, va bene al guinzaglio e ha bisogno di ovviamente una vita dinamica perché anche se non è più prettamente cucciolo lui dentro di sé si sente ancora così e quindi va bene una famiglia che gli sape dedicare il giusto tempo di corse, passeggiate, attività all'aperto, anche che abiti in appartamento ma che insomma abbia il tempo da dedicarci. Trasformare un cane da caccia in cane da compagnia è sempre bello, bello perché è dolce, perché starà con voi continuamente. Sì esatto, lui probabilmente non sappiamo se ha avuto esperienze da caccia o meno, però la razza è quella, però è molto affettuoso, cerca proprio coccole e vivacità insomma. Mi auguro che tutti i cani che abbiamo presentato vengano trasformati più che cani soli in cani da compagnia con la vostra compagnia e presentati una decina ma presenti un centinaio, quindi non avete trovato tra virgolette il vostro, il vostro c'è sicuramente, telefonate, avvicinatevi a rifugio. Esatto, potete dare un'occhiata anche sulla nostra pagina Facebook, Instagram o sul nostro sito dove vedete tutte le varie proposte e venirci a trovare ovviamente. Dunque grazie a... No, stavo pensando a Darden, grazie a Darden, ovviamente grazie a Amanda, un saluto a tutti a Davino, ovviamente assente ormai da tempo, larghi giovani, chiaro, alla prossima, al prossimo mese. Siamo per darvi delle belle notizie, speriamo tra i cani presentati e per presentarne di nuovi. Bene, grazie a tutti per l'attenzione, buona giornata a tutti e rivediamo i nostri amici. Siamo per l'attenzione, buona giornata a tutti e rivediamo i nostri amici. Buona giornata a tutti e rivediamo i nostri amici. L'Automobile Club Torino, che patrocinia dalla nascita videoadozioni, ha deciso di pubblicare sul proprio sito acitorino.it le nostre trasmissioni. Da sempre l'ACI Torino è impegnato nella campagna contro l'abbandono degli animali lungo la strada, perché sono causa certa di incidenti. Ringraziamo l'ACI per la collaborazione e per il contributo alle adozioni. Grazie. 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 Grazie.